Al referendum del 17 aprile, ferma le trivelle. Vota sì. Chi vota sì, difende la vita. La ricchezza del nostro paese e la bellezza del nostro ambiente. La nostra cultura, il nostro cibo, pesca, biodiversità, le energie alternative. Chi vota no, offende la vita. L'estrazione di idrocarburi sono attività inquinanti e danno effetti devastanti per l'ecosistema marino. Trivellare il nostro mare è un affare per i soli petrolieri e non rappresenta un profitto per l'economia nazionale. Il tempo del petrolio è scaduto. Il futuro è infatti nel modello energetico pulito, rinnovabile e democratico. Il 17 aprile vota sì, ferma le trivelle. Questo è il futuro. Certi giusto dafür per l'economia nazionale. Grazie a tutti.